Buongiorno da Edo e partiamo subito con una notizia che riguarda una leggenda del mondo della programmazione in particolare legato alla storia dei videogiochi perché parliamo di John Carmack sapete il co-creatore e principale sviluppatore di Doom e Quake ed è loro ai tempi incredibili motori grafici mi lascerò altri formati per raccontare la storia di Carmack e delle sue innovazioni tecniche come l'uso del raycasting per il motore di Wolfenstein 3D o dell'algoritmo della radice quadrata inversa veloce in Quake 3 qui invece mi concentro sulla news del giorno ovvero il suo abbandono di meta e del VR in generale nel 2013 Carmack era diventato CTO di Oculus la compagnia che sviluppa visori per la realtà virtuale poi acquisita da Facebook, oggi meta e nel 2019 aveva lasciato quel ruolo per diventare consulting CTO quindi con meno potere per lavorare a progetti personali sull'intelligenza artificiale che abbiamo scoperto poi quest'anno essere non in meta ma in una sua nuova startup Keen Technologies con ovvio riferimento a Commander Keen, uno dei suoi primi giochi Carmack ha pubblicato un post su Facebook, prima era interno poi stato reso pubblico dove ha espresso la sua insoddisfazione per come stanno andando le cose all'interno dell'azienda affermando di aver lottato per raggiungere i suoi obiettivi ma esprimendo il suo rammarico per non essere stato sufficientemente persuasivo nonostante avesse una voce autorevole all'interno dell'azienda Carmack ha scritto che hanno costruito qualcosa di molto simile a ciò che era giusto riferendosi a MetaQuest 2 e ha anche aggiunto di essere stanco della lotta all'interno dell'azienda che sta investendo miliardi di dollari nella sua divisione Reality Labs per creare dispositivi di realtà virtuale e software per la sua visione del metaverso inoltre Carmack ha criticato le decisioni prese dal CEO Mark Zuckerberg e dal CTO Andrew Bosworth che comunque ha ringraziato Carmack per il suo lavoro per l'impatto che ha avuto sull'industria della realtà virtuale e ci mancherebbe Carmack aveva già espresso varie volte le sue posizioni contrarie alle iniziative di meta già ai tempi del mancato accordo con Samsung per Gear VR e dell'abbandono del progetto Oculus Go e quest'ottobre aveva espresso candidamente la sua frustrazione dopo il MetaConnect fortemente orientato alla visione del metaverso di Zuckerberg Horizon Worlds e dopo l'innalzamento del prezzo di Quest 2 nel post completo che trovate linkato in descrizione insieme ad altri approfondimenti sulla news Carmack parla dell'inefficienza di meta di una macchina che funziona come una GPU usata al 5% in produzione di un numero ridicolmente alto di persone e risorse però costantemente autosabutato e di quanto questo lo renda infelice e quindi vedremo da una parte spiace vedere una mente geniale come la sua lasciare lo sviluppo della VR in cui ha certamente avuto un impatto considerevole dall'altra parte però aspettiamo di vedere cosa riuscirà a fare con King Technologies e i suoi lavori sulla IA dove sicuramente potrà esprimersi più libero dai vincoli di una corporation e in ultimo siccome ho parlato spesso degli editor web di GitHub come Codespaces e il mio CTO si è lamentato che non ho parlato del web IDE di GitLab ecco qui una notizia abbastanza fresca proprio riguardo questo argomento infatti è apparsa un post sul blog ufficiale di GitLab che presenta il nuovo web IDE completamente riscritto sulla base di VS Code e lanciato ufficialmente in beta il 19 dicembre per gli utenti di gitlab.com per chi invece ha delle istanze self-managed web IDE sarà disponibile dalla 15.7 prevista in uscita per il 22 dicembre e cosa ci troviamo in questo IDE online collaborativo? beh praticamente tutto quello che possiamo aspettarci da VS Code ma la cosa che lo rende interessante è naturalmente la possibilità del remote development infatti è possibile collegarlo a un remote developer environment aprire un terminale e anche vedere la preview delle changes direttamente dentro l'IDE GitLab sottolinea che questo è un primo passo ci saranno altri avanzamenti in futuro quindi non resta che dare un occhio alla documentazione e iniziare a sperimentare con l'editing remoto che non solo GitHub ma anche GitLab offre e questo era tutto anche per quello che avevo da offrire io per questo buongiornissimo quindi grazie per avermi ascoltato fin qui e do appuntamento al prossimo episodio ciao 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 ciao